Il cliente tipo per NG è una società che è nata nel 1999 con l'obiettivo originario di dare servizi per i videogiocchi in rete. Il cliente tipo per NG è un cliente di sicuro esigente, cercano collegamenti che hanno una banda minima garantita decisamente più alta della via del mercato. Siamo un po' la boutique o la sartoria del mondo dell'internet. EOLO nasce, e non è una battuta, per portare la larga banda a casa mia. Esiste il cosiddetto digital diva di ritorno, che sono tutte quelle frazioni o pezzi di paese che, benché siano teoricamente collegabili alla DSL, proprio a ragioni tecniche di doppino di rame usurato, doppino di rame proprio lungo, presenza di permutatori sulla tratta o piuttosto saturazione della centrale, e comunque il servizio non ce l'anno. Allora io nel 2007 feci questo primo ponte radio utilizzando apparati Alvarion con un punto di accesso che aveva la DSL. visto che funzionava tutto bene, allora ho iniziato a pensare che potrebbe essere interessante farlo diventare un servizio commerciale per MDG. In questi tre anni abbiamo investito circa 15 milioni di euro, che oggi conta circa 300 siti per un totale di circa 1000 celle attive. Abbiamo superato i 50.000 clienti collegati alla rete e ne attiviamo circa 2.000 nuovi al mese. Oggi EOLO è considerato sul mercato come una delle soluzioni di collegamenti wireless più prestazionali e più robuste. Abbiamo scelto Alvarion perché mi è stata sin da subito l'azienda e la soluzione tecnologica che più ci ha convinto. Alvarion fin dall'inizio si è concentrata nel sviluppare dei prodotti che potessero garantire elevate prestazioni e soprattutto un'elevatissima affidabilità. La cosa più importante per un operatore è di avere una rete stabile e sempre funzionante. Oltre agli apparati, Alvarion offre anche un insieme di servizi di supporto e di assistenza per poter sempre garantire il miglior livello di affidabilità della rete. In questi servizi possiamo includere in realtà anche tutto quello che può andare sia da semplice fornitura di software aggiornato, servizi on-site, servizi di supporto di terzo livello e eventualmente quello che è necessario per la realizzazione che tu hai di chiave in mano. I vantaggi per i clienti sono di qualità del collegamento e di affidabilità. Un'altra delle ragioni per cui abbiamo scelto Alvarion è sicuramente la fidabilità dei loro prodotti che comparati con altre soluzioni che abbiamo testato in questi anni è decisamente alta. L'adozione del Wimax sulla nostra rete noi lo consideriamo un po' come un salto quantico. Il fatto che sia un protocollo pensato apposta per gli operatori ci consente di incrementare notevolmente le prestazioni della nostra rete sia in termini di throughput per cella e anche di banda che riusciamo a dare ai nostri utenti, di stabilitare il collegamento e soprattutto ci consente di poter scalare quasi all'infinito sulla crescita della rete. La tecnologia 802.16e permette il trasporto di dati sia in unicast sia in broadcast sia in multicast e tutto questo viene gestito direttamente anche a livello radio. Con l'8.16e il Wimax sa potremmo dare servizi voi, a chiunque e soprattutto anche a utenze professionali. Tant'è che oggi siamo letteralmente subissati da richieste di comuni o di altri enti che sono le soluzioni digital device e hanno sostanzialmente capito che oggi l'unica soluzione che hanno visto che gli interventi pubblici non vengono più fatti è quella di chiamarci che non vengono più fatti è quella di chiamarci che non vengono più fatti è quella di chiamarci